Maestro, ieri abbiamo sentito il quarto concerto Beethoven di Per Pianoforte e mi sono chiesto, lei da quasi cinquant'anni suona questo concerto, studia ancora la partitura? Certamente, la cosa miracolosa di questo concerto come di quasi tutti i pezzi della grande letteratura di Pianoforte sono che non stancano mai, hanno una freschezza perenne e proprio in ragione di questo fatto e di un'aderenza personale alla musica che ho scelto tutti i pezzi del mio repertorio, cioè io sono contentissimo di studiare e di ristudiare questi pezzi ogni volta. Lei potrebbe dire quale tipo di sviluppo c'è di cambiamento in questi anni della interpretazione di un concerto come questo? Ci sono mille cose, mille sfumature, il quarto concerto di Beethoven è... Forse la sua opera più ricca di fantasia che Beethoven ha scritto per questa forma, il concerto per piano orchestra, non si può dire che sia certamente superiore al quinto concerto che è una straordinaria partitura grandiosa, eccetera. Però forse ci sono più idee musicali nel quarto, una ricchezza infinita, una ricchezza di sfumature che ogni volta si cerca di approfondire, di far anche possibilmente arrivare all'ascoltatore in modo convincente. Poi ci sono tanti problemi, c'è il problema dei tempi, c'è il problema del suono, ma sarebbe un discorso forse troppo lungo. Ogni interpretazione, ogni concerto, ogni serata è diversa dall'altra, questo è anche il bello del concerto. Secondo lei, da quali fattori dipende l'interpretazione di un concerto? Anche dallo stato d'anima suo, dall'umore, dalla cognizione? Certamente, si dovrebbe poter esplorare in se stessi perfino il proprio inconscio, perché anche l'inconscio partecipa al concerto. E per questo possono capitare delle cose abbastanza curiose, sorprendenti e strane. Ci possono essere delle serate in cui ci si sente perfettamente preparati, perfettamente di buon umore, eppure il concerto magari non è soddisfacente come potrebbe essere. Ci sono delle serate in cui magari uno si sente, non sente una grandissima voglia di suonare o così, e poi nel concerto invece capita qualcosa di assolutamente inaspettato. Questo è un estremo, le sto parlando evidentemente di un estremo, perché c'è ovviamente una preparazione, una conoscenza fondamentale, ma ci sono delle sfumature nel concerto. E questa è la magia della differenza fra una sera e l'altra. Certo. Che c'è veramente qualche cosa che non può essere predetto. Ci sono delle sorprese. E poi c'è la presenza del pubblico. Influenza anche questo? Certamente la presenza del pubblico. Il lavoro di un interprete in fondo consiste nel far capire o comunicare una grande musica al pubblico. Quindi la presenza del pubblico è fondamentale, perché è il fine dell'esecuzione. Sì. In un certo senso. E lei sente anche un po' le emozioni, la reazione, anche se ho visto che lei non guarda il pubblico. Comunque lo sente? Sì, sì, certamente. Lo sente, no? Sì, senza dubbio. È una domanda forse stupida, però mi sono chiesto questo. Se lei conosce la febbre della rivalta? Ovvero sia il track, per esempio. Io chiesi una volta ad Arthur Rubinstein se avesse avuto il track nella sua vita e ottenni la sorprendente risposta. Ho avuto il track prima di ogni concerto della mia vita. Quindi è forse una forma di emozione che è indispensabile. Quel che deve avvenire in un concerto in fondo è una ricreazione di una grande opera. Ricreazione che non può avvenire facilmente. E quindi non è possibile avvicinarsi a questa realtà senza provare emozione o sentire che si tratta di qualcosa di estremamente delicato. Passiamo al Bach, al Clavicemba, l'ho ben temperato. Lei lo suona, l'ho visto sui giornali già da più di vent'anni, anche forse di più. Io ho visto un concerto davanti al pubblico venti anni fa. Sì, anche di più. Anche di più. Pochi pianisti lo suonano. Perché è così difficile? Ci sono vari problemi. Intanto c'è il fatto che il Clavicemba lo ben temperato non è stato scritto direttamente per il pianoforte. Quindi ha potuto, e anche nel mio caso, rendermi per qualche anno titubante a fare questo compito. Poi ho assolutamente superato questo periodo, soprattutto con varie considerazioni. Una è che Bach è stato un grande trascrittore di musica sua. Ha trascritto concerti per violino, li ha trascritti come concerti per clavicemba, o li ha trascritti come concerti d'organo nelle cantate. Quindi si può immaginare che forse pensasse che l'essenza della sua musica non veniva modificata da un timbro di strumento diverso. Questa è stata una delle mie considerazioni. E l'altra considerazione è semplicemente la coscienza della grandezza assolutamente straordinaria di questa musica che si vorrebbe fosse conosciuta e fosse apprezzata dai giovani, perché si tratta di una musica fra le più alte mai scritte. E quindi proprio, se vuole, la si suona anche con un carattere divulgativo, per renderla presente oggi. Ci vuole una memoria particolare per suonarlo? Sì, io l'ho suonato sia in concerto che in disco senza musica, quindi assolutamente memoria, con un'esperienza che ho fatto anche per musica contemporanea, per esempio la seconda suonata di Boulez, l'ho suonata sia con la musica sia senza musica. Indubbiamente c'è una libertà maggiore senza spartito. L'opera ovviamente è molto difficile, molto impegnativa. Il solo fatto della scrittura polifonica rende l'esecuzione particolarmente impegnativa, perché in una fuga a quattro voci, per così dire, ogni dito della mano è molto occupato a realizzare questa complessità. È scritto come una composizione piuttosto didattica. Qual è il... o mi sbaglio? Certamente c'è un elemento didattico come si vede dall'intestazione, dalle premesse di Bach, ma penso che il vero spirito di quest'opera fosse la scoperta di territori inesplorati, di caratteri musicali nuovi, usando tonalità allora assolutamente non esistenti della prassi musicale, abbiamo le preludie fughe in do dies maggiore, in fa dies maggiore, in si bemolle minore, eccetera, tonalità lontane assolutamente non usate in quel tempo che potevano certamente eccitare la fantasia di un grande creatore come Bach e portare la sua immaginazione a creare opere uniche per queste tonalità inconsuete. Era proprio un'opera di esplorazione di mondi nuovi, di espressione e di caratteri, più che un lavoro didattico. Credo che fosse una suprema sfida del compositore nei riguardi della creazione. Lei ha già detto lo suona sul pianoforte, quindi uno strumento piuttosto moderno rispetto a Bach. Secondo lei è permesso anche un suono o un'interpretazione romantica di questa composizione? Io trovo estremamente schematica l'uso dei termini classico-romantico, i quali noi cataloghiamo e definiamo in modo molto impreciso un periodo stolonico piuttosto che un altro. Diciamo che serve solamente in senso del tutto orientativo, ma se si va nella sostanza della musica io sono pronto a trovare elementi di forte romanticismo negli autori classici in Bach, in Mozart, in Beethoven, come sono portato anche a trovare degli elementi classici in autori estremamente romantici come Chopin. Per lo meno l'aspirazione di Chopin era di diventare anche un grande classico come i suoi amati Bach e Mozart, di scrivere musica assolutamente perfetta in cui non ci fosse una nota fuori posto, non una nota di più, non una nota di meno. E quindi sono piuttosto scettico sulla divisione dei compositori in classico-romantico. La realtà della musica è molto più complessa. Sì, sì, è molto più complessa. Come lei si prepara per un concerto? C'è il giorno del concerto, il pomeriggio? Ci sono dei riti, delle abitudini sue? Sì, suono generalmente tutto il programma prima del concerto, un po' la mattina, un po' il pomeriggio. E così, e poi penso anche senza suonare la musica che verrà eseguita. Sì. Lei ha cominciato la sua carriera internazionale dopo questo famoso concorso Chopin. Aveva paura lei di essere per sempre uno specialista di Chopin? Francamente dopo il concorso ebbi un po' paura, una paura veramente del alcolico che oggi mi fa abbastanza sorridere, perché uno dei più grandi privilegi di un pianista è di suonare la musica meravigliosa di Chopin, francamente. Però allora naturalmente desideravo ampliare il mio repertorio, desideravo conoscere meglio e suonare la grande musica tedesca, la musica di Beethoven, di Schumann, non essere confinato alla musica di Chopin. Sicché questo spiega anche le mie scelte per alcuni anni, scelte magari non facili di non andare assolutamente secondo la corrente, ma di andare un po' contro la corrente. Sì. Un'infanzia in cui la musica ha avuto un ruolo molto forte, sicuramente fin dall'inizio, ma per esempio la frequentazione scolastica era normale fino a una certa età, poi frequentai le scuole piuttosto privatamente, ma insomma andai avanti. Mi iscrissi all'università ma non prosegui gli studi. Ah sì, quindi non è che uno come lei si doveva un po' ritirare dal mondo per occuparsi quasi esclusivamente di musica? No, beh, nel corso della mia vita ci sono stati momenti così, certamente. Momenti di studio in realtà ci sono sempre. Anche perché per esempio adesso io non faccio molti concerti all'anno, certamente non supero il numero di 40 concerti all'anno. Questo mi permette di avere dei periodi anche relativamente lunghi di studio, di meditazione, chiamarli come desidero, o di preparazione. mi permette di fare un numero abbastanza grande di concerti diversi, di musiche diverse nel corso della stessa stagione, per esempio, cosa che mi dà molto piacere. Non potrei sopportare di andare avanti una stagione a suonare un solo programma, sarebbe per me inconcepibile. E se lei non si occupa di musica, ci sono altre cose con cui si diverte a casa leggendo? Sì, sono interessato praticamente a tutte le arti, quindi alle arti visive, alla letteratura, e poi ci sono gli amici, e poi per quel che riguarda lo sport mi interessa solamente la realtà al mare. Con questo lei sa tutto di me. Niente calcio. No, per carità. Negli anni 70 lei si è impegnata per la Noia Musique, per la musica contemporanea, insieme con Luigi Nono e Claudio Abado. Forse, come abbiamo detto, era un periodo molto favorevole. Chiedo, anche se ne abbiamo già parlato, la musica nuova è sempre valida oggi per i concerti, per i programmi di concerti? Deve essere valido? Guardi, succede questo, che la musica dei grandi compositori, per esempio della seconda metà del Novecento, ha una posizione, secondo me, molto inferiore a quella che dovrebbe avere nei programmi normali, dei concerti. Dovrebbe essere una presenza costante, e quindi dovrebbe esserci da parte del pubblico una sensibilità molto maggiore per le esperienze artistiche di oggi. Quindi, come si può spiegare questo? Si spiega, pensando all'enorme sviluppo del linguaggio musicale del Novecento, che ha reso abbastanza difficile per il pubblico di seguirlo, e una certa relativa mancanza di esecuzioni. Naturalmente ci sono problemi molto forti, c'è il problema del numero delle prove con l'orchestra, però c'è il desiderio di una reazione a questo stato di cose. Nel mio assoluto piccolo ho cercato anche di immaginare e di fare organizzare delle serie di concerti in cui ai classici venissero contrapposti dei momenti significativi della musica d'oggi. Questo ho fatto in varie città, ho cominciato anni fa a Salisburgo, e poi c'è stata una grande serie a New York, a Tokyo, e attualmente ci sono, a Vienna per esempio, e attualmente ci sono due serie a Milano e a Parigi, in questo senso. E' un piccolissimo contributo mio verso un allargamento del repertorio, verso il pubblico tradizionale, che dovrebbe avere una coscienza maggiore della grandezza di grandi maestri della composizione come Boulez, Stockhausen, Nono, Berio, Ligeti, eccetera. In questo concerto che lei ha sentito Riccardo Chai con la sua magnifica orchestra del Ghevandaus ha eseguito oltre all'italiana di Mendelsso anche un lavoro di Luigi IX, composizione numero uno per orchestra. Era un lavoro che si esegue molto raramente e che ha ottenuto un bellissimo successo col pubblico in una splendida esecuzione. E fra qualche giorno ci saranno a Parigi e a Milano due concerti in cui viene contrapposta la musica di Chopin a tre composizioni di Nono di vari periodi. Una, Sofferte onde serene, un pezzo che per Pianoforte e Nastro che Nono scrisse per me molti anni fa, un pezzo di grande intensità poetica. Poi vi è un pezzo per voce sola di Amira Bupachat che verrà cantato da Barbara Hennigan molto bene e che dà un'idea della maestria di Nono nel trattare la voce umana e in particolare la voce femminile. E poi ci sarà l'esecuzione del pezzo A florestas comemicea de vita un lungo brano di circa 40 minuti dedicato al fronte nazionale di liberazione del Viettam di cui io sentì la prima esecuzione nel 66 a Venezia, alla Fenice di Venezia. Questo è stato il mio primo incontro con Nono un incontro che suscitò in me uno straordinario entusiasmo per la sua musica che trovai assolutamente anticonvenzionale ricca di espressione straordinariamente nuova appunto originale e forte e da lì cominciò anche la conoscenza sua e quindi una relazione di amicizia che continuò nel tempo e che portò anche Nono a scrivere dei pezzi utilizzando il pianoforte in seguito. Sì, sì, questo l'ho letto. Voi avevate anche insieme certe posizioni politiche di sinistra e lei per esempio ha suonato anche in una fabbrica? In realtà io ho suonato in una fabbrica prima di conoscere Nono prima di avere alcuna opinione politica perché quindi non c'entra assolutamente niente. Ah, non era un impegno politico questo concerto? No, non era un impegno era un momento di solidarietà verso una piccola fabbrica nei pressi di Genova che era in protesta e l'orchestra locale mi invitò a suonare con loro. Ma comunque lei era favorevole anche al movimento contro la guerra in Vietnam quindi diciamo era favorevole alla situazione del 68? Sì, naturalmente anche con possibili critiche ma ero favorevole alla situazione del 68 ma lei mi dice se c'era una comunanza di idee con Nono sicuramente sì sia pure nelle diversità personali perché Nono era iscritto al Partito Comunista aveva una forma molto rigorosa di visione politica in quegli anni e io ero propenso verso un socialismo che comprendesse assolutamente la democrazia quindi mi avvicinai anche al Partito Comunista Italiano solamente pur non avendo mai avuto la tessera ma solamente quando prese delle posizioni chiaramente democratiche condannò l'invasione sovietica della Cercoslovacchia e praticamente prese il cammino del socialismo attraverso la democrazia Sì, questo cosiddetto eurocomunismo è stato chiamato forse Sì, ebbe simpatia per uomini come Berlinguer, come Dubček, come Gorbaciov che tentò di fare un'opera molto importante nella ex Unione Sovietica e che purtroppo non gli fu permesso di fare Lei considera sempre un cittadino politico oggi anche guardando la situazione un po' difficile politica in Italia? Ma ritengo che avendo anche allora avuto delle posizioni relativamente moderate non so se mi spiego mi sento oggi di avere le stesse posizioni cioè di non aver cambiato di avere una certa coerenza mia Ho letto che ha fatto un concerto anche favorevole a quelli che erano contro una legge di Berlusconi diciamo brevemente un concerto anche contro questa linea di Berlusconi è vero questo? Sì, feci un concerto qui a Milano perché ci fu un referendum che voleva introdurre in Italia il federalismo e il presidenzialismo nel presidenzialismo vi erano forti timori che potesse portare a una forma di dittatura perché il Premier avrebbe avuto la facoltà di sciogliere il Parlamento quindi dei poteri assolutamente enormi e pericolosissimi nella situazione italiana di oggi sì che al momento del referendum io dedicai un concerto al fatto di dire no in questo referendum andò bene allora ma non è finito il tentativo di portare questo paese purtroppo verso direzioni pericolosissime questo paese è veramente fa indubbiamente pena dal punto di vista del straniero ma è in corso in questo paese una lotta molto forte fra chi vuole una reale democrazia e semplicemente un tipo di governo rispettabile e invece il governo attuale che non lo è grazie una cosa completamente diversa ho osservato che lei è un grande fumatore quindi lei non fa questa moda di non fumare cosa significa per lei fumare? rilassa? diciamo che è una cattiva abitudine che presi molto presto a 14-15 anni e che ho portato avanti fino adesso fumando le stesse sigarette le stesse? sì sì ritornando alla musica a casa lei si è creato quasi anche un mondo di musica insieme con sua moglie che è anche pianista se non mi sbaglio mia moglie capisce molto bene la musica che era una bravissima pianista non l'ho mai sentita suonare se non in disco ma è una persona sensibilissima e di grande intuito musicale non ha potuto costringere lei di suonare? per lei no non sono riuscito poi c'è il suo figlio Davide con cui ha fatto anche concerti insieme mio figlio Daniele Daniele sì facciamo un concerto insieme a Firenze il direttore era Zubigmeta che ci invitò a suonare un concerto per piano orchestra diverso io suonai un concerto di Mozart e Daniele suonò il concerto di Ravel e fu un'occasione molto simpatica lei è anche in un certo senso stato insegnante? assolutamente no Daniele ebbe dei buoni insegnanti non credo di essere dotato fra l'altro per insegnare non credo che sia la mia e ha imparato lei qualcosa in questa collaborazione secondo con lui perché lui non è solo pianista ma è anche compositore e direttore d'orchestra dunque parlando con Daniele abbiamo uno scambio magnifico perché ci capiamo perfettamente perché abbiamo dei gusti simili e perché lui veramente capisce molto bene la musica quindi c'è uno scambio perfetto allo stesso livello ah sì? sì poi volevo alla fine fare una carriera oggi una carriera di un solista di un pianista per esempio è diverso rispetto a 50 anni fa? mi sembra che si siano accentuati certe componenti che secondo me non sono molto positive nella carriera dei giovani pianisti o forse anche dei giovani direttori ossia si è accentuata riguardo ad alcuni una grande difficoltà di fare carriera una grande difficoltà di trovare degli impegni che consentano naturalmente di migliorare di fare esperienze eccetera e poi si è accentuata invece l'estrema facilità con cui dei giovani indubbiamente dotati ma sono portati all'estrema event del successo in un modo assolutamente rapidissimo e sia l'una cosa che l'altra a mio avviso naturalmente i giovani poi vivranno con queste caratteristiche dovranno fare la propria vita così però questo modo di tutto o niente secondo me è contro a quello sviluppo graduale del musicista che sarebbe la cosa essenziale e migliore cioè sarebbe molto bene che un giovane avesse a subito impegni senza tutte le difficoltà che ci sono impegni però che il suo successo si estendesse un po' alla volta a seconda della sua maturazione musicale il marketing è diventato più importante per la carriera probabilmente si se vediamo un musicista come Lang Lang che è accompagnato dal primo momento con una macchina di marketing incredibile io non ho mai sentito Lang Lang in concerto quindi mi è difficile esprimere un'opinione certamente si è riversato su questo giovane tutto l'entusiasmo per il suo paese per la Cina evidentemente questo è il fenomeno c'è la categoria della star cioè anche la stampa subito deve scoprire e offrire una star questa parola star è veramente spaventosa non bisognerebbe usarla in termini artistici è una cosa quasi insopportabile quindi lei non rispetta se la stampa lo scrive naturalmente giustamente lei è una star io non posso essere contento perché non mi piace questo termine è una parte